Bentornati su Radio Design, sempre qui dall'Istituto Italiano Design, questo podcast si chiama Storie Digitali, ormai l'abbiamo sdoganato, con me Paolo Bardelli, entrambi consulenti, insomma gente marketer. Sì, sempre meglio che avere un lavoro comunque. Colmi di odio verso il mondo, infatti il tema di oggi è l'odio, l'odio che scorre e non lo diciamo noi, attenzione, potrebbe sembrare una cosa un po' così costruita o che ce la tiriamo, ma lo dicono anche degli studi, delle analisi, di cosa parliamo? Parliamo di elezioni europee, rimaniamo sempre in tema politico, che è sempre molto interessante per farsi dei nemici e non trovare un eventuale futuro lavoro in questo settore. Non ci interessa assolutamente, la lista dei nemici è ancora lunga, la possiamo riempire e fare del nostro meglio. Dal Papa, anche la regina Elisabetta, che cercava un social media manager, questa stronza. È vero, cerchiamo di stare sul culo anche a Confindustria, lavoriamoci su. No, quello no, mi piacerebbe lavorare a Radio 24, quindi grandissimi, vi amo, siete il top. Ciao Oscar. Benissimo, dopo questa captazio, benevolenzione. Molta captazio. Parliamo di elezioni europee. Perché noi senza parlare di politica non possiamo mostrare, però ricordatevi, noi parliamo di politica, ma rimanendo sempre ben piantati sul nostro, chiamiamolo core business, che comunque è il marketing, la comunicazione online. Sto cercando di pararci il culo, ci sto riuscendo? No, certo, poi chi ha votato comunque Salvini è un ritardato, però adesso faremo un'analisi puntuale del marketing. Però non è che chi crede in Di Maio sia particolarmente sveglio. Ma neanche quello, ma neanche chi ha votato Zingari, comunque. È vero, tecnicamente è vero. Vabbè, comunque. Quindi abbiamo tutti i problemi. Il cerchio bottismo salva sempre. Esatto. Il cerchio bottismo salva sempre. E' tutto uno schio più Europa. Comunque. Sì, salve ragazzi. Allora, parliamo un po' di marketing, tanto la politica va e viene, sono tutti i cialtroni, come direbbe la collega Rossella Biaggi. Sono morti! Scusate. Allora, parliamo di social media. Sì? Cerchiamo di fare un cappello iniziale, parliamo di queste elezioni, come sono andate secondo te? Queste elezioni come sono andate? Non come risultato tragico, ma come sono andate? Male però hanno segnato in termini di marketing, di social media marketing, una tappa ulteriore. Perché dall'articolo che abbiamo preso come spunto di Inside Marketing abbiamo visto che si è imposta una seconda fase. Dopo lo sviluppo esponenziale delle metriche di vanità, che ricordiamo sono like, condivisioni, reaction, insomma tutte quelle cose che potete enumerare dalla pagina Facebook solo guardandola. Quindi la progressione dei like è l'esempio chiave. Dopo una fase con quell'aumento esponenziale abbiamo una stabilizzazione. Quindi su Facebook, ad esempio, i politici non raccolgono più uno scasso di like in più, ma riescono a sfruttarli meglio. Quindi se parliamo anche in termini di funnel, di stabilire un rapporto dialogico con il cliente, siamo già in una seconda fase. Il cliente è già stato acchiappato e ora viene, tra virgolette, potenziato come acquirente o incattivito, a seconda dei casi. Esatto, potremmo dire in una fase di remarketing. Siamo in una fase di remarketing ed è la fase che precede le leggi razziali, solitamente si. Ti si è piaciuto un botto. Questa frase è anche quando hai detto un botto di, come hai detto, like... Uno scasso di like. Uno scasso di like lo userò. Ci sono stati uno scasso di like molto interessanti. Vabbè, intanto vi invitiamo ad andare a vedere la bellissima puntata epica, direi, su Vinci Salvini. Questa, diciamo, questa cosa stupenda che... Mi aspettano sotto caso ormai. Hanno delle mazze. Che Goebbels si è ucciso andando nel futuro. Ha visto Vinci Salvini e ha detto, cazzo sono stupido rispetto a Salvini. Mi ammazzo. Esatto. Cianuro ha ucciso tutti i figli dopo aver visto Vinci Salvini. Abbiamo risolto la guerra. Quindi grazie Matteo perché almeno hai fatto morire Goebbels poco prima della fine della guerra mondiale. Comunque dopo... Signor Morisi, noi siamo sempre pronti. È quando vuole chiamare. Esatto. O repasti anche. Tanto amore, tanto amore. Dopo... Andatevi a vedere quella puntata dove abbiamo spiegato un pochino di cose che magari evitiamo di ripetere oggi. Però c'entrano tutte perché effettivamente... Cosa è successo? Come diceva Paolo. Siamo arrivati in una fase di maturità. Maturità di alcuni canali come per esempio Facebook ovviamente che è arrivato già da ormai due anni a maturazione. È arrivato a maturazione e lo scopriamo anche grazie a queste elezioni perché effettivamente tutte le pagine dei principali candidati non hanno avuto una grandissima crescita nell'ultimo mese. E solitamente poco prima delle elezioni le persone cominciano a interessarsi, così adesso viene da ridere, alla politica, a seguire i politici. In realtà non è accaduto neanche questo. No, però c'è un motivo. Lo spazio è esaurito. Certo, abbiamo raggiunto proprio la fanbase possibile. La fanbase è stata raggiunta e in più, come abbiamo detto, i operatori sui social dei organi politici stanno imparando piano piano, sempre meglio, a mettere in piedi strategie vere e proprie legate al marketing. Questo è marketing perché siamo passati a una fase due e non si cerca più di ampliare il bacino elettorale, bensì si lavora sui lead già presenti. Esatto. Ne più ne meno. Diamo qualche numero molto interessante. Per esempio Di Maio che, diciamo, i Cinque Stelle hanno vinto proprio grazie a una strategia di comunicazione online, che è un partito digitale. Non esiste, cioè vai a cercare una segreteria, un meetup. No, erano dei avanguardisti. Erano. Esatto, erano, adesso stanno addirittura implodendo, possiamo dirlo, città dei voti, quindi c'è uno. Di Maio, ad esempio, nel maggio del 2019 ha avuto un incremento su Facebook dello 0,2%, che vuol dire stagflazione, che somiglia molto anche alla situazione politica attuale. Quindi, grande Di Maio, sei riuscito anche nei tuoi canali. Guarda, sei eccezionale, sei un grande perché riuscire a fermare la macchina perfetta creata da Gianroberto Casaleggio richiede un grado di scarsezza mai vista. Bravo. Poi si potrebbe pensare, la Meloni e Salvini, quindi il nazismo che avanza, potrebbe, forse, fa di meglio. Non proprio, perché Meloni, la fascista Meloni, arriva a un più 0,9%. La salutiamo romanamente. Ciao, saluto Romano. Tra l'altro la intervistai pure qualche anno fa, molto, mi fece ridere abbastanza. Comunque è simpatica. Finì una cena, simpatica, è stato molto divertente. Salvini arriva all'1%, nonostante il vinci Salvini. Vinci chi? Vinci Salta. Vinci Salvini. E comunque... Non me lo dimenticherò. L'unico che fa un balzo in avanti è Zingaretti. Ovviamente. Che fa il più 1,18%, che vuol dire fallimento nel marketing. Sì, perché comunque è un nuovo segretario. Era ovvio ci fosse un effetto rimbalzo, no? Che rimbalzo. Complimenti ancora una volta al PD che si affida a grandi comunicazioni. La notte dei morti viventi. Qui c'è un po' di umorismo, non so se si è notato. E quindi siamo giunti a una maturazione, diciamo anche a una normalizzazione del canale Facebook. Che cosa è successo invece? Che dall'altra parte il canale Instagram invece, ovviamente, sappiamo tutti, è in crescita. Da qui ci sono stati dei numeri decisamente migliori. Per esempio, il miglior dato lo fa Zingaretti. Lo fa Zingaretti. Probabilmente prima aveva due follower. Lui e la cugina ha avuto un balzo del 15% in un mese. Zingaretti mi dà l'idea di quello che fino all'altro ieri postava le foto della colazione. Non so se... No, è quello che faceva l'attore in quella serie di TV. Come un talbano sono. Che tratta il fratello. Esatto. Non so se siete ignoranti, quindi figuriamoci. Sì, ma non vi giudichiamo. No, invece sì, vi giudichiamo amaramente. Meloni, quindi il partito nazionalsocialista è salito del 7%. Comunque lo metto nel flusso comunicativo è cresciuto specialmente su Instagram. Soprattutto la comunicazione da un punto di vista visivo, ok? Visivo, perché voi siete analfabeti funzionali, come tutti noi, quindi non riusciamo più a leggere niente. I testi non capiamo. No, niente. Vi do un esempio. Oggi ho potuto compilare un questionario a dei analfabeti funzionali di vent'anni. C'erano delle risposte multiple. I professori riusciti a non leggere il titolo, a rispondere a caso e dare due risposte contemporaneamente nello stesso posto. Splendido. Quindi ho detto voglio capire come sei riuscito. Questa volta durerà più di vent'anni. E non ci salveranno gli americani. Dal ventennio al trentennio. Questo è il cambiamento. Il famoso governo del cambiamento. Beh, lasciamo stare le opinioni personali che non sono così chiare e nette. E parliamo di social network. E parliamo di social media ancora. Comunque parliamo di social media e parliamo delle tematiche. È stata fatta un'analisi molto interessante sui temi. Indovinate. Ovviamente cosa mi potreste dire voi? Elezione europea e parliamo di Europa. Parliamo di Europa, elezione europea? Beh, no. Non ne parliamo. Non ne parliamo affatto. Non ne parliamo affatto ed è curioso perché dai dati emersi in realtà l'argomento Europa non è proprio stato toccato. C'è una rarissima, una strana eccezione. L'argomento Europa viene toccato tanto nella comunicazione su Twitter. Quindi una comunicazione moribonda. Istituzionale, con un tono voice molto formale, molto lontano dalla reazione emotiva. Dove non c'è nessuno tra l'altro. Non c'è più nessuno. Vi ricordate la fase di MySpace? Quella calante dove c'erano soltanto le band che parlavano a loro stesse. Ecco, è la stessa cosa. Twitter è diventato un posto per i VIP che parlano tra VIP. È terrificante. E solo là si parla d'Europa perché su Instagram è impossibile. Eccezione fatta per Emma Bonino che ha fatto un partito che si chiama Più Europa. Quindi gioco forza anche se fa del semplice branding deve citare l'Europa. Ma gli altri, eccezione fatta forse la Meloni su Facebook perché parla in termini di polarizzazione, argomento sul quale dopo torneremo, in maniera antagonista rispetto all'Europa. E il grande protagonista che non è stato l'Europa di questa tornata elettorale è proprio l'antagonismo. La maggior parte dei messaggi, i più forti, sono tutti posti in controtendenza rispetto a qualcos'altro. Quindi c'è la logica dell'individuazione del nemico, l'individuazione di un problema. Il dibattito non è mai stato articolato proprio a livello di analisi semantica in termini costruttivi. Quindi non è mai arrivata una proposta dritta ma ci sia sempre proposti in reazione a qualcosa. Ed è curioso perché dimostra anche qual è, scusate la retorica, anche l'incattivimento di questa proposta. Che non è una proposta ma è una proposta distruttiva. Quindi di per sé i veri programmi hanno latitato in questa proposta politica. Esatto. Cercando di mappare... Attenzione, Biagi ci vuole abilità a riuscire a compilare un questionario, dice giustamente Rossello. Un saluto a Giuseppe che mi saluta. Allora, qual è la cosa interessante? Quali sono stati i temi trattati dai vari politici? Scopriamo ad esempio che a farla da padrone ovviamente è l'antagonismo. L'antagonismo è l'odio. Lo trovate anche nel titolo di questo podcast video. L'odio la fa da padrone. Ovviamente non vi cito Matteo perché lo sapete tutti che parla solo e sempre e solo di questo. Casualmente l'antagonismo è presente anche in tutti gli altri personaggi. Sì, tutti. Cioè, prendete, ci si mandava a fanculo a vicenda come avviene da sempre, dal dopoguerra. No, forse quando c'era la democrazia cristiana c'era un po' più di rispetto. Sì, comunque... Comunque dagli anni da Silvio. Dagli anni 90 in poi direi che l'antagonismo è il tema madre come valore principale. Senz'altro. E non solo da tutte le parti, quindi da Salpini... Da una parte all'altra comunque perché Berlusconi è stato fondamentale nei meccanismi di polarizzazione. Quindi ha spinto le persone, ha spaccato in due il dibattito. O vieni di qua o vai di là. Infatti il centro-sinistra è stata la creatura che univa delle persone che non avevano un cazzo da dirsi, solo unite dall'odio per Silvio Berlusconi. Piace questa analisi, vai avanti. È fatta a spanne, mi rendo conto. Però le stesse persone che oggi vengono massacrate da travaglio, in realtà lo avevano come idolo una decina di anni fa, per i meccanismi legati alla polarizzazione. Vi rimandiamo per questo concetto qua. A Wikipedia. Quello della polarizzazione. Esatto, a Wikipedia, sempre perché noi siamo per la democrazia diretta, non so se lo sapevi. Io no. Eh, neanch'io. Però è un libro fondamentale per parlare di politica sui social. Biondo e Canestrari è supernova. Se volete sapere tutto circa l'ascesa del Movimento 5 Stelle, avrete un quadro molto chiaro. Tra l'altro Canestrari è stato anche qui a Perugia a parlare ed è stato illuminante, perché ha spiegato i meccanismi legati alla polarizzazione. In poche parole, lo state vedendo, lo spazio per i moderati sta venendo meno, perché questa non è più l'era per il pensare, dove l'azione politica è il risultato di una mediazione, ma è l'era del sentire. Mi stai sulle palle, ti odio, ho un problema, devo trovare una soluzione. La soluzione non potrà essere trovata tramite un processo dialogico. Te lo do io il nemico. Questa è la polarizzazione con me contro di me. La mia stessa essenza è definita da ciò che non sono. È filosofia spiccia. Ha è al contempo. Ha e non ha. Ma se non mi dicono cos'è non ha, io non capisco cosa sono. E questa politica è quella del non ha. Ti dico in continuazione cosa non sei e si arriva a campagne Facebook, come quella di Salvini, lei non ci sarà, lui non ci sarà. Non ti dice tu ci sarai. Ti dice che il nemico non ci sarà. Questi sono i meccanismi della polarizzazione e vediamo gli atti. Ed è una spremuta d'odio. Mi piace? Diciamo che la politica dal nazismo in poi è sempre trattata questa. La polarizzazione, l'antagonismo è verissimo. L'odio, l'ebreo, la minoranza che in realtà non è un problema ma poi viene trasformato in un problema. Tutti i grandi dittatori hanno giocato bene sul concetto di antagonismo. Però casualmente, anche se siamo in una democrazia, tutti giocano su questo. Berlusconi, che è stato il maestro, come dicevi tu, lo stesso Zingaretti, anche la Meloni. Calcolate che l'antagonismo rappresenta circa un quarto di tutti i contenuti che sono stati postati nell'ultimo mese prima dell'elezione. È tantissimo. Sì, è spaventoso perché manca la proposta. Poi, come succede nel marketing, tutti i candidati hanno provato a differenziarsi un pochino, anche se poi non ci sta tutta questa differenziazione. Sai che roba. Alcune tematiche, per esempio come la solidarietà, come potete immaginare non c'è spazio per la solidarietà, rappresentava circa il 12% del totale nel caso di Zingaretti, che comunque ha come zoccolo duro il proprio elettorato che comunque è di sinistra, quindi ha certe tematiche, diritti, umani, eccetera, ci tiene ancora per poco. E quindi è l'unico che tratta i temi della solidarietà. Come abbiamo detto, l'Europa è inesistente e quando è presente viene declinata male. male, cioè viene declinata nell'antagonismo, per esempio la Meloni sfrutta molto il concetto di Europa in contraposizione, quindi dice io odio l'Europa, sono fuori dall'Europa. L'Europa fa così, io farò cosa? Di Maio, poverino, che finalmente va al governo, ma non lo scopre nessuno perché non solo non diventa presidente, ma ci mette un fantoccio e poi si fa cannibalizzare da Matteo, che cosa dice, rivendica durante questa campagna i suoi risultati, che non ci sono. Splendido. Però lui, vi rimando al podcast di Pagella Politica di ieri, dove c'è un'analisi bellissima, addirittura hanno aperto una pagina che si chiama contratto di governo.pagellapolitica.it, dove fanno il fact-checking su tutti i risultati, tutte le promesse, che sono circa 360 di questo governo, e attualmente sono riusciti a compiere il 12% delle promesse in un anno, siamo abbastanza indietro, e tutte le promesse che sono state raggiunte, come potete immaginare, sono quelle peggiori che potevano accadere per il nostro paese. Quelle che polarizzano di più. Esatto, quindi cosa fa Di Maio? Parla di politica interna, quindi l'Europa zero, non gliene frega niente, il risultato di governo? Reddito di cittadinanza, punto, praticamente, perché il resto, vorrei ricordare anche questo, adesso non vorrei fare la polemica, non sono polemico, però, sai com'è? La Fiat si sta alleando alla Renault, dove il 50% della, diciamo, della, nel futuro, diciamo, nella futura governance di questa mega azienda che dovrebbe essere la terza produttrice al mondo di auto, il 50% dovrebbe essere Exor, che è la holding detenuta, dagli Agnelli, quindi Elkan, non il tossico, il fratello migliore. L'altro 50% dovrebbe essere Renault, che Renault al suo interno ha i giapponesi della Nipo e bla bla bla, ma ricordiamolo, che gli unici deficienti che vanno poi in Europa e si fanno rappresentare dai sovranisti, che saranno la minoranza poi, perché voi non capite niente, quindi votate i sovranisti, che sono tipo quelli emarginati in Europa, quindi noi saremmo rappresentati da l'alleanza degli emarginati, come al solito. Che cosa succede? Perché vi faccio questa piccola postilla? Perché il 7% di Renault è detenuto dal governo francese, imbarba tutte le leggi, antitrust, il governo non deve aiutare le multinazionali. Il 7% della casa madre Renault, casualmente noi non abbiamo lo Stato italiano dentro la FCA, quindi questo che cosa vuol dire? Che visto che tanti, qui torniamo al marketing, visto che Renault e FCA producono un sacco di cose che si sovrappongono, come utilitarie e cose, secondo voi, visto che lì c'è il 7% di Francia e noi non contiamo niente in Europa, dove possiamo dire no, guarda che ci stanno prendendo per il culo. Secondo voi quali fabbriche chiuderanno una volta che si fonderà FCA e Renault? La so io, credo quelle in Italia. Può darsi. Secondo me sì, potrebbe accadere, potrebbe accadere. Quindi torniamo a Di Maio, ecco perché ero partito dal discorso, perché Di Maio è l'unico ministro dello sviluppo che non ha detto una parola sul fatto che FCA, che è la più grande azienda italiana, si sta fondendo con un'altra europea. Cioè lui di cosa parla? L'assenzionismo ci ha punito. Sì, l'ha davvero spiegata così. L'ha davvero spiegata così. C'è così. Che spettacolo. E' questo. Quali sono altre tematiche? La sicurezza e l'immigrazione, come potete immaginare. E' l'unico Berlusconi che si differenzia un pochino dagli altri con Matteo, che parla anche di leadership, propria leadership e la famosa vita privata. La vita privata. Uno, la sua vita oramai zoofilo con i cani. Circondato da Dudu e dai suoi rampolli. Tra l'altro io sono un grandissimo fan di Dudu, volevo dirlo. Io Dudu lo mangerei di baci, ma parentesi chiusa. La vita privata è entrata proprio a gamba tesa, ragazzi. Non è da oggi, perché Berlusconi comunque è stato antesignano anche in questo. Ricordiamo la copertina bellissima di famiglia. Stavo pensando proprio a quella, perché lui comunque ti ha portato, ha portato la dimensione del presidente operaio. Ve la ricordate questa cosa del presidente operaio? Cioè, sembrano passati cento anni, perché la comunicazione si è evoluta molto, molto rapidamente. Il suo marketing era quello legato alle emittenze televisive, quindi è un approccio, diciamo, top down. Scusate per questa parola proprio da marketer, cioè è calato dall'alto in basso. Salvini, invece, cosa condivide? È la polpetta, è la nutella, è lui che sta a spasso, è lui che è davanti al barcone. È trash, lo capisco, però crea fidelizzazione, crea un legame diretto, perché il capitano, così come lo chiamano, mi ricordo come i fan di Vasco Rossi lo chiamano Blasco. È la stessa cosa, anzi lo chiamano anche Cap Vasco Rossi. Ed è lo stesso tipo di rapporto. Regà, davvero? Cioè, quello tra Salvini e i suoi fan è lo stesso che Vasco Rossi, che comunque è un cazzo di cantante, ha con i suoi fan. Ha creato lo stesso genere di rapporto. È mostruoso? Sì. Sarebbe carino riavere un De Gasperi? Sì. Però in quest'epoca non è possibile. In quest'epoca funziona la nutella, funziona questo rapporto, perché generi e alimenti, anzi ormai possiamo dire che attivi, proprio sempre parlando in termini di marketing, dei clienti, dei lead, e li porti poi all'acquisto, che in questo caso rappresenta il voto e non solo, come abbiamo visto nella famosa altra puntata su Vinci Salvini. Tutti vanno forte su Facebook, che ormai si è stabilizzato, Instagram che cresce, ce n'è uno solo di tutto il panorama politico italiano che sta su Twitter. Uno, uno soltanto. è Fratoianni, ragazzi. Abbiamo visto i dati? Fratoianni punta tutto su Twitter. Mi chiedo come mai il suo messaggio non sia arrivato all'elettorato. Ricorderei il grandissimo Beppe Civati, che è fuori dall'Europa. Beppe Civati sembra uscito veramente da uno di quei romanzi generazionali tipo Beppe Civati uscito dal gruppo. È pazzesco. Lui veramente è una collezione di scelte sbagliate. Nel tempo sbagliato, cioè lui riesce a sbagliare dentro l'errore. Già non era un granché stare lì nel gruppo dei Verdi, che comunque è andato benissimo ovunque, tranne che in Italia. Quindi questo ti dimostra che forse porta anche un po' sfiga a lui, ma scherzi a parte. Dispiace perché magari potrebbe avere anche delle ottime proposte, ma in questa epoca non basta solo una buona proposta, bisogna saperla consegnare per l'appunto il placement, perché un buon prodotto di per sé, se non viene deliberato, scusate questa parola alla testa di cazzo, però se non viene consegnato adeguatamente, non arriva, non esiste, è un prodotto che non esiste. Tanto meglio avere un prodotto magari più vago, più vuoto, ma consegnarlo con continuità, con strumenti costanti, con consapevolezza del canale, come fanno altri politici. Quindi non ho dubbi che Civati sia un vero politico di zona, un vero uomo tra la gente che conosca le dinamiche politiche, ma in quest'epoca un tipo di politica come la sua attacca poco, attacca molto molto poco. Esatto. Prendo la palla al balzo perché, almeno io per chiudere e chiusare un attimo quello che hai detto, molto interessante, il concetto proprio di tribù, il fatto che il capitano riesca a creare la sua tribù. È uno degli elementi del marketing. Cito il grandissimo Noah Fleming che ha scritto un libro bellissimo e si chiama Evergreen, cioè come un'azienda, come un brand può essere un Evergreen, quindi un sempreverde traduciamo per i votanti di Salvini. Ci sono le famose 3C dell'azienda Evergreen. Citiamo, quindi, una di queste 3C è la community, ok? Che può essere intesa come tribù. Se tu non riesci a creare una tribù che poi parte anche dal concetto che c'è stato tu prima di antagonismo, contraposizione, polarizzazione, non potrai mai creare un gruppo forte, solido, che dice noi contro gli altri, che anche il titolo della canzone mi sa, dei Pink Floyd, qualcosa, citazioni colte, mamma mia, mamma mia. E così 5 ascoltatori per questo. Incredibile. Dicevo, se tu riesci a creare la community, quindi cito Apple, cioè io sono Apple, voi siete merda, Salvini riesce a fare lo stesso. La famosa pubblicità comparativa di Apple contro Microsoft. Esatto. IMMC, IMMC, no? Te la ricordi? Esatto. Come anche quello di Chrome, che dice Chrome è il top, più veloce, il resto fa schifo, cioè Explorer, sostanzialmente. E Matteo è riuscito a fare questo. Anche in Vinci Salvini c'è. Questo video verrà criticato dai soppiantoni. Cita gli antagonisti, cita gli antagonisti. Quindi veramente una maestria manuale, eh, ragazzi. E quindi niente, era giusto per chiusare un po' quella cosa che hai detto te. Leggetevi questo libro bellissimo di Noah Fleming, stupendo. Anche questa volta abbiamo parlato un sacco. Abbiamo detto un sacco. Una novità, una novità. In esclusiva useremo tutte le tecniche del funnel per venderle. Apriamo le vendite per 20 minuti delle spillette con una auction. Quindi chi offre di più si accapererà una spilletta. Non accapigliatevi. Esclusività nel marketing. Abbiamo prodotto solo 6 spillette. Non è vero, ma noi ve lo diciamo. 6 spillette. Stiamo nuotando nelle spillette. Solo 20 minuti si aprono adesso le vendite. Potete acquistarle a partire da 100 euro. E ci stiamo rovinando. E ci stiamo con una spilletta. Può avere una telefonata con Matteo Salvini. Questo è giusto per novità. E se il ministro è occupato va bene anche Nicola Palumbo. Parla anche con... No, parla con Di Maio del nulla. Se volete parlare del nulla. Ci siamo. Preferirei parlare con te. Grazie mille. Cara. Figurati. Siamo al top. Questo podcast lo potete vedere live quando capita che noi siamo qui. Sì, quando passate anche di qua. In modo arbitrario. Quindi lo diciamo noi compariamo. Quindi avete il tempo di mezz'ora per arrivare qui e farvi vedere davanti alla vetrina. Urlate. Altrimenti molto più facile. Potete abbonarvi al podcast con l'audio in super alta top qualità. Non come quella che state guardando ora in video. Quindi molto più top. Potete sentire tutte le sfumature della mia voce. Tutte le baritonalità. Potete ascoltarci su Spreaker, su iTunes, su Google Podcast. Novità. Su... Ah, l'ha detto iTunes, l'ho detto. Su tutti i distributori digitali, su Spotify per i più young, che però non ascoltano ancora cose di questo genere. Suppongo, perché vuotano ma te. Comunque, anche in video, in diretta su Facebook e in esclusiva, solo per domani, anche su YouTube. Dai, dai. E dai. Quindi è stato un sogno. Lasciate i vostri commenti, spolliciate. Spolliciate è bello. Fa 2005? Sì. Quattro. Spolliciate, mettete un like, fate swipe up e andate a fare in culo. Ciao. È stato un sogno. È stato un sogno, veramente. Baci baci.